Questo è mio padre, Simone. È Paolo, l'altro mio papà. Si sentivano pronti per mettere su famiglia. Tutto è cambiato quando incontrarono lei, Tilly. E grazie a Tilly sono nato io. Leone! 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 Come sta andando il tuo video sui diritti LGBT in Europa? Io non autorizzerò mai delle immagini in cui non sono bellissimo e giovanissimo. Allora non ci saranno immagini due in questo video. Pazienza! Ma chi è lì? Mi fai compagnia? Io. Sì. Non ho mai conosciuto uno con due padri. Cercavo di indovinare chi da dove fosse tuo padre biologico. Se non lo mi tradisce. Come è potuto? Ne parliamo in un altro momento. Cosa? Della nostra separazione. Non l'ammazzo. Ehi! 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 La Cassazione si è espressa contro la doppia. Paternità. Potremmo essere tutti costretti a fare l'esame per capire chi è il padre biologico. Non è possibile che non sai chi è il tuo padre biologico? Simone o Paolo? Non lo so. Perché no? Non è possibile. 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 Le sciello sono abbastanza buono. E' quello che fa una persona che sei unico. Grazie a tutti.